Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Summit nella sede della Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto, che ha visto seduti allo stesso tavolo la comandante della Capitaneria Alessandra Di Maglio, il comune con il sindaco Spazzafumo, il vice Capriotti e l'assessore Camaioni, ma soprattutto i rappresentanti dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico Centrale, chiamati a dare risposte a diverse problematiche in sospeso per quello che è il secondo porto regionale dopo Ancona. Primo, nell'ordine del giorno, l'insabbiamento del canale di accesso. È terminata la caratterizzazione, sicuramente a breve l'autorità di sistema inoltre la richiesta di autorizzazione all'impiego di questi fanghi alla Regione Marche, quindi siamo riusciti ad avere questa informazione. Si dovrà dunque attendere l'autorizzazione da parte della Regione Marche, nel frattempo si spera che il maltempo invernale non peggiori una situazione già al limite della sicurezza per i pescherecci e che per il nuovo anno la draga possa entrare finalmente in azione. Sì, diciamo, sarà questione di mesi. Da qui, insomma, al 2023 sicuramente riusciremo a realizzare lavori. Ma in termini di sicurezza si è parlato anche di nuove torri faro, dei lavori al muro paraonde e della chiusura del molo nord e della banchina Malfizia ai non addetti ai lavori. L'ordinanza che regolamenterà l'uso delle sbarre dovrebbe essere firmata a breve dall'autorità di sistema portuale. Siamo venuti in porto appunto per fare un sopralluogo e far visionare all'autorità di sistema portuale anche il muro paraonde che è versa in situazioni di degrado. Sicuramente questo è il lavoro un po' più impegnativo. L'autorità ha fatto riserva di verificare con il proprio ufficio tecnico un progetto per vedere come intervenire e in che modo. Anche perché sul muro c'è un vincolo di tipo, insomma, archeologico. Quindi sicuramente questo è un impegno abbastanza oneroso per l'autorità di sistema portuale.